buonasera a tutti volevo fare un commento su praticamente chi guarda youtube in italia che diciamo così in questo momento ma anche prima secondo poi dei contenuti che uno guarda l'unica informazione seribilibera che è rimasta anche se poi molte cose vengono bannate perché guardavo nella classifica dei canali più seguiti e più delle cose allucinanti che è venuto fuori praticamente il target di youtube allora le persone di 40 50 anni ma come informazione usano ancora i giornali e la televisione quindi allucinante mentre youtube è molto usato dalle nuove generazioni quindi 12 anni 15 anni 18 anni però guardano cazzate logicamente guardano ovviamente ce n'è uno lì capitano mi ricordo come si chiama un ragazzino scemo scusa sto lo dico sono un po scemo un milione 200 mila iscritti che fa vedere se un ragazzino gioca con fortnite la mamma glielo spegne lui spacca tutto cioè veramente ma che cretinate sono quindi che speranza abbiamo lo dicevo anche a cosa morisano che l'ho scritto non abbiamo nessuna speranza di farci perché in italia secondo me ci saranno un milione di persone che guardano youtube ma poi di questo milione sono suddivisi in centomila che guardano le cose che diciamo così che stanno succedendo adesso e 900 mila sono tutti sti ragazzini sfigati poveracci celebronesi che veramente ogni giorno che vado in giro guarda ne vedo no ma c'è da stare anche attenti perché sono matti dal ragazzino lo so che ti taglia la strada mentre vai in macchina gli dici qualcosa e questo ti impenna mentre tu vai con la macchina ti impenna da dietro che se gli inchiodi per farlo smettiti di farlo stupido si scoppa pure dal ragazzino che ho avuto che fare una volta il ragazzino che l'avevano lasciato degli albergatori a gestire l'albergo guardate che faccio allucinante di 16 anni che gli dico guarda finito la cartigianica me lo puoi dare lui ama no ma lei ci lamenta sempre cioè veramente i ragazzini sono talmente immersi ma li vedi poi i ragazzini di 16 anni stravaccati sempre seduti cioè non fanno mai il movimento sono tutti grassi io conoscuno di 12 anni ho fatto tutto il grasso qui di tessuto di poso nei fianchi 12 anni che un po' è per l'alimentazione ma molto anche perché fanno una vita sedentare io la loro età stavo fermo un attimo giocavo poloni nel cortile andavo a fare un giro in bicicletta per quello eravamo magri è tutto lì il segreto che puoi anche mangiare un pochettino ma se uno si muove tanto è chiaro che da ragazzi ci si muove tanto dall'ultimo soprattutto i 40 anni ci si muove meno anche perché si usa molto la macchina io no e quindi bisognerebbe introdurre meno che non li anche perché il metabolismo cala quindi bisogna introdurre meno calorie invece ne introduciamo parecchie purtroppo no comunque è stato molto interessante questa cosa che un po' già la sapevo che in italia purtroppo youtube è seguito le persone che purtroppo non potranno cambiare l'italia tutti i ragazzini cerebrolesi dementi sotto sviluppati mentali quindi non abbiamo proprio nessuna speranza di poterci affare con questo concluso se volete iscrivetevi al mio canale io parlerò sempre di argomenti vari in più casino che sta succedendo adesso ma ormai anche inutile fare dei video perché tanto ormai almeno io ho capito il 90 per cento delle persone ancora non ha capito penso che ci sia questo non sono anche male zanzara assassina boh vabbè e saluto buona serata